trovare le nicchie di mercato qua mi aggancio al terzo argomento quindi come analizzare il target della nicchia devono essere individuate prima possibilmente di fare l'acquisto perché se si compra la macchina pensando a un certo tipo di produzione e poi non c'è quel cliente è un grosso problema quindi bisogna pensarci prima come si trova una nicchia di mercato uno conoscere i bisogni del target due individuare le nicchie e analizzare la concorrenza ora vediamo questi tre punti nello specifico sono chiaro mi seguite avete qualche domanda parlo troppo veloce no a posto cos'è il target chissà cos'è il target bravo non lo so tu lo devi sapere tu lo sai e non fare il timido che tu lo sai voi siete il mio target faccio un esempio faccio un esempio pratico abbiamo insegnisti stampatori grande formato artigiani del plexilas ok voi rientrate nel mio target perché io vendo materiali e attrezzature per la comunicazione quindi stranamente ho invitato il mio target a sentire questo seminario ognuno di voi a parte la professione che fa delle caratteristiche ben precise quindi l'età il sesso la città la specializzazione obiettivi e problemi ok soprattutto problemi vedo una testa lì che fa anche il vostro cliente target ha delle caratteristiche ben precise che diciamo io riassunto brevemente perché sono una lista arrivava fino a terra possono essere aziende privati o pubblica amministrazione quindi all'interno di queste categorie abbiamo poi tutte le varie sfumature di grigio e anche loro hanno quindi un età il testo città specializzazione obiettivi che vogliono raggiungere e bisogni e problemi perché ho scritto in rosso bisogni e problemi perché queste due parole per me non solo per me meno da chi ho imparato questi concetti e sono le due parole che mi fanno conoscere il target veramente che nel momento in cui io so toti di cosa ha bisogno per migliorare la sua azienda o quali problemi deve risolvere io da fornitore posso dare delle soluzioni in target così dette perché vado a risolvere un vero problema che è la persona che non ascoltate che quando vi vengono a trovare in ufficio chi vi vuole dare prodotti che non mi interessano quante volte un catalogo ma guarda sono cose interessanti e voi muro totale perché non è un problema da risolvere non avete bisogno di quel catalogo al contrario una persona vi viene a trovare e vi punge nel vivo come si dice su una cosa che dovete risolvere alla vostra piena attenzione no quindi per conoscere il target e di conseguenza la nicchia dovete sapere quali problemi e bisogni hanno i vostri clienti il concetto nicchia lo faccio abbastanza insomma streaming sito ma per capirci andare avanti nel discorso globale quando tanti clienti hanno quel problema ok abbiamo trovato una nicchia la nicchia è l'insieme di clienti che hanno qualcosa da soddisfare cioè per me un cliente diciamo una nicchia di mercato è quella della stampa uv dove ci sono dei clienti che per esempio devono stampare promozionale ok quella per me rappresenta una nicchia di mercato per voi potrebbe essere così molto banalmente chi lavora con le aziende può avere un cliente che ha un'industria cioè che produce qualcosa o un negozio ok se entrambi questi due diciamo imprenditori che possono sembrare così diversi hanno bisogno entrambi di gadget fanno parte della stessa nicchia perché se devono regalare qualcosa natale se tu hai un industria o hai un negozio di abbigliamento una farmacia sempre da uno che stampa deve andare quindi questa è individuare una nicchia chiaramente ci sono nicchie semplici come può essere questa o nicchie molto più profonde e in quel caso chiaramente più difficile individuare la nicchia più ci potrebbe essere la possibilità che è una nicchia dove c'è meno concorrenza ok cliente più grande la nicchia e conosciuta maggiore concorrenza abbiamo sono stato chiaro con questo concetto perfetto sto migliorando questa è una banalità però è una cosa che io ho sperimentato in prima persona spesso si vanno a cercare i clienti molto lontano no cioè si dà molto spazio al nuovo cliente è il vecchio cliente o il cliente acquisito si da un po come scontato io ci sono passato con i clienti oppure sbagliato perché li ho trascurati e in realtà quando si deve comprare una nuova attrezzatura si deve fare un investimento la prima cosa che bisogna fare è guardare dentro la propria lista clienti guardare dentro i clienti che ogni giorno si forniscono si ci sente perché potrebbero avere quei bisogni e problemi che non avendo l'attrezzatura giusta non avete mai soddisfatto ma non mi ha chiesto di fare alcune lavorazioni perché non sa che non le potete fare o ha già un fornitore quindi la primissima cosa da fare è analizzare con attenzione i propri clienti avete una lista clienti fruibile ben profilata o che questo è importantissimo già avere una lista clienti perché mi sorride avere una lista clienti su un excel con delle informazioni aggiuntive con delle informazioni che vi fanno capire da subito cosa fa quel cliente vi avvantaggi in questo tipo di analisi quindi quagliando facendo ad esempio proprio super pratici se volete comprare una se volete comprare una stampante uv ma il vostro cliente non compra promozionale questo è un problema perché è un problema chi mi risponde no se non fa promozionale cioè se un cliente tu vedere promozionale ma lui non compra perché 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 ti andare a cercare nuovi clienti ok cioè non che non ce ne siano ma tu hai un'attrezzatura che non puoi sfruttare da subito con chi ti conosce meglio perché dover cominciare da cose complesse quindi questo tipo di ragionamento va fatto prima di acquistare la macchina cover è sulla bocca di tutti tutti propongono cover 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 ma se voi avete una tipografia ok dove lavorate pochissimo col passante ma ste cover a chi dovete vendere se non avete una vendita online se non avete gente che vi riempie il negozio ma chi le dovete vendere ste cose a nudo bravo non c'è come venderle saperlo prima devo fare fare dei ragionamenti ad esempio come far arrivare gente da voi se la volete o è il caso di vendere su delle piattaforme di commerce o fare un e commerce per questo vendere ai clienti è meno costoso che nel momento in cui il tuo cliente scusate puoi vendere direttamente al tuo cliente hai la possibilità di spendere zero in marketing in fatiche in chilometri e in informazioni e passare direttamente alla vendita quindi ribaltando quegli esempi nel momento in cui avete clienti che compro promozionale o hanno bisogno di cover perché ve l'hanno chieste lì la cosa è semplice e molti clienti che hanno comprato la stampa v da me hanno fatto proprio così cioè era un qualcosa che già i clienti gli chiedevano chi ha forzato la mano ahimè lavora meno perché lavora meno perché per portare clienti in in azienda bisogna fare un po di marketing e spesso non avete tempo di gaspare ne ho parlato spesso non sempre c'è tempo di fare marketing per portare clienti a sé per mille problemi di produzione interna di tempo di problematiche affrontate ogni giorno dico non è un'accusa però è un un tassello fondamentale per sviluppare la stampa uv